mister michele migliani siamo al termine di questa amichevole contro la virtus francavilla come andata quali sono le sensazioni visto che è un percorso di crescita questo nella fase di preparazione ma abbiamo fatto delle cose buone abbiamo fatto delle cose meno buone abbiamo abbiamo cominciato ad avere un'idea i ragazzi hanno cominciato a mettere in pratica le mie richieste facciamo ancora tanti errori in fase di palleggio e dobbiamo essere più veloci nel cercare la verticalizzazione verso la porta avversaria oggi c'era anche un bel pubblico a vedere la robur anche gli applausi è importante insomma sentire anche la vicinanza perché poi manca un mese all'inizio del campionato però è chiaro che insomma sentire il calore è importante anche in questa fase a vedere gente vicina fa molto piacere io spero che abbiano la pazienza di aspettare il lavoro che stiamo facendo che abbiano la voglia di seguirci anche nelle difficoltà perché durante il campionato ci sono ci sarà una difficoltà ma il nostro la nostra voglia è quella di regalare delle soddisfazioni a questa gente veramente sta vicino quando vuole sta vicino alla squadra siamo con simone guerri queste occhiaie prima ti lamentavi insomma qualcuno dice che è l'età però insomma a parte gli scherzi sei di nuovo qua a lottare con la maglia bianconera quali sono le tue sensazioni per questo inizio di stagione le sensazioni sono positive sono positive perché stiamo costruendo un gruppo gruppo sano e un gruppo solido abbiamo uno staff di primo ordine la nostra priorità comunque è seguirlo sei tra i giocatori presenti anche la scorsa stagione cosa significa questo credo che ci sia voglia di riscatto in questa parte del gruppo soprattutto sì è chiaro che io sono abituato a guardare avanti ma indietro però io mi metto nei panni di noi giocatori che siamo stati qua l'anno scorso c'è una voglia di rivalza incredibile e credo che questa voglia di rivalza può essere un valore aggiunto a questa squadra dobbiamo cercare di non ripetere gli errori l'anno scorso magari a livello di gruppo stiamo coinvolgendo i nuovi sicuramente le sensazioni sono molto buone michelle cruciani allora michelle perché forse il babbo aveva un gusto particolare per un giocatore si all'epoca era giuventino quindi c'era platini penso che sia per questo poi non so se ci sono altri motivi allora parte le battute chiaramente le cose più scherzose come sta andando questi come questa settimana insomma da bianconero siamo giunti ad un amichevole importante questo zero a zero con la virtus francamente ma sta andando bene dai stiamo lavorando bene stiamo lavorando con nel modo giusto c'è lo spirito giusto quindi quando c'è lo spirito giusto si lavora bene oggi abbiamo fatto penso una buona amichevole sotto l'aspetto di quello che ci ha chiesto il mister ed è le prime cose che ci ha chiesto il mister normale che c'è tanto da lavorare non male che c'è tanto da affinare i meccanismi di squadra però c'è tempo quindi l'importante ripeto è esserci con la testa esserci con caratterialmente volere qualcosa di importante ti abbiamo visto subito in questa amichevole insomma al centro della squadra in tutti i sensi un regista è quello che ti piace fare del tuo ruolo sì sì è quello che quello che ho scelto di fare a calciatore quindi mi piace farlo e cercare di farlo nel minore modo possibile